L'arcivescovo Riccardo Fontana celebra i suoi 50 anni di sacerdozio. Una giornata importante come ogni giorno del Signore per fare la nostra parte come si deve. Nella cattedrale, sacerdoti religiosi e fedeli della Chiesa Retina Cortonese Bituurgenza, assieme a quelli della Diocesi di Spoletto Norcia, si sono uniti al proprio pastore per celebrare assieme il 50esimo anniversario della sua ordinazione presbiteriale. Noi abbiamo pensato di vivere insieme a lei questi 50 anni di gratitudine in quella che voleva nascere come appunto una giornata per i sacerdoti che festeggiano con lei il sacerdozio. Una celebrazione durante la quale sono arrivati anche gli auguri e la benedizione per lo speciale traguardo raggiunto da parte di Papa Francesco. Franciscus Papa, venerabili fratri, Riccardo Fontana, archiepiscopo, episcopo Arretino, Cortonensi, Bituurgenzi. Nato a Forte dei Marmi il 20 gennaio 1947, Monsignor Riccardo Fontana è stato ordinato presbitero il 2 luglio 1972 a Pisa dell'Arcivescovo Benvenuto Matteucci. Arrivato al Giubileo è giusto dire grazie alla Chiesa che mi ha custodito senza togliermi le prove che la vita pone a ciascuno. Fontana ha raggiunto il 75esimo anno d'età e ha già rimesso a Papa Francesco il suo incarico. A giorni deporro la sedia curule, il faldistorio del Vescovo, chiamato a reggere e governare la sua chiesa. La nomina del nuovo Vescovo della Diocesi è attesa breve anche se l'Arcivescovo ha già deciso che continuerà a risiedere in città. Perché questa è la mia chiesa e questo è il mio popolo e quindi io resto qua a fare la mia parte. Grazie.